Buongiorno e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento meteo. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per essere sempre aggiornati. Parliamo oggi del tempo previsto nel weekend, quando una saccatura di origine artico-marittima dovrebbe scendere direttamente dal pollo verso l'Europa centrale e anche verso l'Italia. Tale eruzione potrebbe riportare valori sotto media termica per il periodo con un'entrata della termica meno 35.500 metri di quota sull'estremo nord-ovest. Entrata della termica invece più 3, più 4, 1500 metri di quota su tutto il nord e sulla pianura padana. A seguire avremo precipitazioni diffuse sul centro e sul sud, ampio soleggiamento a schiarite sul nord e sul nord-ovest con evicate a partire fin verso i 1200-1300 metri sul Trentino Alto Adige.